Dice Amerigo, professor Bernabei, se mi fermo è un guaio, no? E continua a cucire, a ritagliare, peraltro per hobby, senza ricavarci soldi. E' questo lo spirito giusto per affrontare la terza età? Sì, ovviamente sì. Però il signor Amerigo, così come il signor Vaime, hanno una benedizione che non hanno nemmeno cercato, che gli è piombata addosso perché siamo invecchiati in modo velocissimo, perché contraddicendo le teorie evoluzioniste in modo totale, nel giro di 50 anni l'età media è passata dai sfiorava ai 60, oramai siamo ben oltre gli 80. Senza che il signor Vaime e il signor Amerigo abbiano fatto nulla di particolare, loro, così come tutti i grandissimi vecchi, ricordiamo siamo il paese più vecchio del mondo. Quindi di fatto c'è stato un aiuto, non voglio dire sovrannaturale, ma certamente naturale dal punto di vista dell'evoluzione dello stile di vita. Tutti quanti facciamo meno fatica, abbiamo meno caldo, meno freddo, ci alimentiamo comunque meglio, ci muoviamo un pochino di più, e poi certamente c'è il valore aggiunto della medicina, che siano gli antibiotici, che siano i vaccini, che siano le procedure chirurgiche maggiori, e campiamo per il merito di queste cose che non ci siamo cercati da solo. Senta, fatta eccezione per il signor Amerigo e il signor Vaime, però ci sono chi non ce la fa o tra qualche anno potrebbe non farcela. Per queste persone qui, a suo giudizio, il nostro paese è attrezzato? Qui entriamo allora nel vero caos, perché di fatto, e questa è la cosa curiosa, ma è una tipica problematica italiana. Noi siamo bravissimi sull'uno a uno, sull'individuo, sulla genialità, sull'artista unico, che sia poi Valentino o Vaime fa poca differenza. Siamo assolutamente inadeguati, ma è inutile accusare la politica. Noi, noi italiani, siamo geneticamente inadeguati a organizzarci, averci uno straccio di metodo per cui siamo il paese più vecchio del mondo? Bene, bisogna fare una serie di cosucce. La salute e la sanità devono essere ritarata, i medici di medicina generale devono cambiare il loro compito, gli ospedali devono averci corridoi più brevi e devi metterti in testa di ridisegnare uno straccio di paese diverso. Ma secondo lei non si fa per pigrizia o c'è qualche altro motivo? Per incapacità di programmazione? Per mancanza di metodo. Ora, poi ci sono naturalmente delle eccezioni. Io ricordo benissimo, vi ricordate il tanto vituperato Don Htn, no? Uno strepitoso ministro, strepitoso ministro, perché era uno che, mi ricordo, radunò in una settimana a Gargonza tutti i massimi esperti del paese, stette un po' a sentire, per esempio, la settimana successiva, disse, bene, qui bisogna fare 140.000 posti letto, 140.000 posti letto, è un numero che fa paura, perché siamo un paese vecchio. E trovò anche i quattrini nella finanziaria successiva. Poi le regioni non sono state in grado di farlo, per dire che poi c'è qualche strada che si apre. Oggi è sempre di meno perché la politica oggettivamente è capace di occuparsi del giorno dopo, altro che Jobs Act, Elderly Act, Vecchi Act, se no col Jobs Act non si va da nessuna parte.